Un comitato nato per gridare a gran voce la necessità di riaprire il pronto soccorso di Quarnier è quello di Difesa della Sanità Pubblica dell'Alto Canavese, che si è presentato alla stampa in maniera ufficiale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio, nella cornice della Società Operaia di Valperga. Un gruppo, formato attualmente da una ventina di persone, che si rivolge ai cannabisani affinché si faccia massa critica, si chieda tutti insieme, uniti agli enti competenti, che un servizio essenziale come pronto soccorso riapre i battenti nel pieno delle sue funzioni. Sono stati Riccardo Tessarini, Bruno Boggio, Davide Pieruccini, Danilo Armanni, Hermes Zerbinatti, oltre a Claudio Carlone e Giuseppe Summa, rispettivamente rappresentanti dell'AFPCGL e del NURSID, ad aver esposto i motivi che li hanno spinti a scendere in campo per questa causa. La situazione della sanità pubblica versa da parecchio tempo in una condizione di sempre più grave difficoltà nelle erogazioni di tutti quei servizi consoni e indispensabili per il soddisfacimento generalizzato del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e tuttora vigente, si legge nel comunicato che è stato redato dal gruppo. Nella regione Piemonte, come in tutte le regioni d'Italia, la sanità pubblica viene ormai surclassata a tutti i livelli da quella privata, grazie ad una costante restrizione dei fondi erogati dallo Stato e dalle regioni e ad una politica compiacente verso l'aziendalismo sanitario privato da parte dei governi che si sono man mano succeduti nel corso degli ultimi 30 anni. In particolare, si somma, alla carenza sempre più marcata degli organici, l'eliminazione di interi reparti nosocomiali e la riduzione drastica dei posti letto e del personale rispetto ad essi operante, nel nome di una razionalizzazione che svilisce e danneggia sempre più pesantemente l'inerme cittadino. Un aspetto particolarmente grave di questa disastrosa situazione è la sempre più accentuata scomparsa del servizio di pronto soccorso. Sul nostro territorio alto canavesano è rimpassato egregiamente operante il pronto soccorso dell'ospedale civile di Quornier, ormai irrimediabilmente soppresso dopo l'evento pandemico, nonostante la sua conclamata necessità, reclamata anche di recente da una ragguardevole mobilitazione popolare con una significativa raccolta di firme a sostegno della richiesta. La decisione di dotare l'ospedale civile di Quornier di un punto di primo intervento ci trova fortemente contrari, sia per la dichiarata limitatezza, se non quasi inconsistenza del servizio offerto, sia per i suoi costi di gestione, affidata a medici privati compensati a gettone con soldi pubblici. Il Comitato di difesa della sanità pubblica dell'Alto Canavese considera pertanto prioritaria la riapertura a pieno regime del pronto soccorso dell'ospedale civile di Quornier, in quanto servizio imprescindibile e assolutamente indispensabile per i cittadini del territorio di competenza della struttura, vasto e disagiato, in quanto ricadente, per gran parte, in area montana e perciò normativamente tutelato. In tal senso, il Comitato deciderà di operare legalmente presso le istituzioni preposte, con un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di indurre la politica a misurarsi con tale urgenza di comunità e corrispondervi adeguatamente. Il Comitato si doterà, a seguito della sua costituzione, di uno statuto che ne disciplinerà l'impegno e l'azione. Il Comitato, che è anche molto attivo sui social, con una pagina Facebook che conta 850 membri attualmente, vuole confrontarsi con i canavesani, con gli amministratori locali, con gli edetti ai lavori, con le istituzioni regionali, in modo da arrivare ad ottenere risposte certe. Prossimamente saranno organizzati incontri, eventi e manifestazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare il territorio riguardo tale problema ed ottenere soluzioni che non siano dei tappabuchi. Quello del pronto soccorso è un servizio importante per tutti, perché ognuno di noi può averne bisogno. Noi ci stiamo mettendo la faccia e la buona volontà, ma più saremo e più la nostra voce sarà forte, più avremo la possibilità di farci sentire e di raggiungere l'obiettivo. Grazie.